Resterà nel carcere di Piazza Lanza a Catania il 28enne Luigi Franco, finito in manette lo scorso 23 febbraio per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad arrestarlo nella propria abitazione i carabinieri di Calatabiano al termine di un blitz compiuto insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi. Il riesame preseduto da Maria Grazia Vagliasindi ha confermato l'ordinanza del GIP Giuliana San Martino, l'uomo che è anche imputato nel processo sul furto e la tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso ai danni dell'azienda Caruter che gestisce a Calatabiano il servizio di igiene urbana, è stato trovato in possesso di circa un chilo di marijuana già suddivisa in dosi, ben 77, pronte per essere immesse sul mercato. Franco dovrà rispondere anche di violazione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza cui era sottoposto. Entro 45 giorni il Tribunale del riesame depositerà le motivazioni.